La città chiede giustizia, titolo da film da poliziottesco anni 70, ma siamo nel 2022 e bisogna adeguarsi. Quindi sì, la città chiede giustizia, la polizia indaga, ma poi non si può dire. Non si può dire come andrà a finire, se i banditi verranno arrestati, se i pusher verranno fermati, se i ladri saranno denunciati. No, non si può più dire perché il decreto del ministro della giustizia, Marta Cartabia, stabilisce che possa essere soltanto il procuratore a decidere quali informazioni devono essere divulgate ai giornalisti e di conseguenza ai cittadini. Si tratta effettivamente del decreto del ministro Cartabia, che ha determinato, quindi di fatto messo un bavaglio all'informazione legata alla giustizia, che spesso risponde anche a un interesse pubblico. Cioè quello di sapere che una persona è stata arrestata per aver commesso un reato e quindi assicurata la giustizia. Addio alle conferenze stampa dei carabinieri o della questura in cui vengono comunicati arresti e sequestri, a meno che il procuratore capo non ritenga, ma con atto motivato, di autorizzare la trasmissione di notizie ai mass media e quindi ai cittadini. L'interesse pubblico starebbe appunto nel fatto che il cittadino sa che se c'è stato un reato c'è stata anche una controoffensiva dello Stato, e che ha messo al riparo dei cittadini dalla presenza dei delinquenti. Questo è un decreto assolutamente da rivedere che pone un bavaglio ai limiti e all'informazione che interessa soprattutto i cittadini. Quindi oltre alla categoria naturalmente dei giornalisti e di chi tutti i giorni come noi lavoriamo sul campo a fianco delle forze dell'ordine. Anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, non condivide gli effetti del decreto legislativo 188 del 2021, in vigore dal 14 dicembre. Una norma che ha spaccato il mondo politico. In realtà tutto parte dall'Europa, dalla direttiva 343 del 2016, con l'obiettivo di rafforzare la presunzione di innocenza, che però in Italia era già ampiamente garantita dall'articolo 27 della Costituzione, che prevede che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Oggi, in ogni caso, la questione è tornata ad attualità. La direttiva europea è stata importata e ne è scaturito il divieto alle autorità competenti di indicare pubblicamente l'imputato o l'indagato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con condanna definitiva, che in Italia significa mediamente quasi 1600 giorni dalle indagini preliminari alla sentenza di Cassazione. Quindi, se oggi a Vicenza si verifica una rapina e viene catturato il colpevole, ipoteticamente si può dare la notizia dell'arresto tra 4 anni e 4 mesi, il che non è propriamente rassicurante per i cittadini. Ci sono stati dei casi eclatanti, come quelli del mese di dicembre, che sono stati risolti con arresti e che non sono stati di fatto comunicati. Sarebbe importante sapere che il cittadino che è stato, per esempio, oggetto di rapina da parte di un soggetto, è stato poi questo arrestato e assicurato alla giustizia. È importante per il cittadino sapere che questo personaggio non è più in giro a delinquere, quindi è più sicuro e quindi anche nella percezione stessa della sicurezza l'informazione dà una mano importante. Grazie. Grazie.